Un altro Mistios Sei tu il Fabbro? Lo ero Ma poi è arrivato un altro Mistios Aquila qualcosa Un bravo ragazzo È ombra dell'Aquila E ce n'è una sola Io Ah Quello che ha affondato i rinforzi? Le voci si spargono in fretta Parliamo dell'altro Mistios Aquila qualcosa Il ragazzo ha acceso la mia fucina Ma in qualche modo ha provocato un incendio Fuoco dappertutto Ora ci vedo a malapena E quasi non muovo più le mani Ma sei l'unico Fabbro in città E i pirati stanno arrivando Abbiamo bisogno che tu forgi delle armi Niente paura Il vecchio Callipide può ancora forgiare qualche lama Mi serve solo un po' di spazio per lavorare Quei blocchi di pietra saranno un ottimo tavolo Puoi spostarli per me? Sembra facile Qualcuno si farà male con questi se non faccio attenzione Bello stati Uh based ippi Assolo Calore Inferno Add initial During La L Ottimo lavoro E ora? Non possiamo forgiare delle armi senza del ferro, non credi? Io ne ho parecchio Prendi un po' del mio Beh, sei sicuramente più utile di quell'altro Mistios Ora mi servono solo i miei attrezzi I tuoi attrezzi? Sono seri? L'Aquila ha qualcosa Ha detto che un gruppetto di banditi li ha rubati Sono andati verso ovest Ma non so dove Vado a cercarle Poi sarai pronto? Ma certo! Questo vecchio fabbro ti ringrazia Non credevo che avrei lavorato ancora Ma la tua generosità ha cambiato tutto Chi si vede la nuova ombra dell'Aquila? Credimi, sono molto meglio dell'altra Senti, vuoi renderti utile nuova ombra dell'Aquila? Riportami il cavallo che il tuo socio ha lasciato ai pirati Ti riporterò il cavallo Ma ce ne serviranno molti altri Per cosa? I pirati stanno arrivando Gli abitanti del villaggio si difenderanno meglio combattendo a cavallo Certo Ma questo è allevato per Megacle in persona Senza il suo cavallo non cavalcherà alla testa dei suoi uomini Hai mai visto un generale appiedato? Non uno forte Esattamente Dove è andato il cavallo? L'altra ombra dell'Aquila l'ha portato a est oltre le saline E' tornato dicendo che i banditi l'hanno rubato di notte Riesci a crederci? Devo trovare quell'impostore Anche a me non dispiacerebbe dirgli due paroline Se lo trovi Dà un pugno sul becco al suo uccellaccio da parte mia All'Aquila? Era a malapena un pollo Ti riporterò il cavallo di Megacle Poi io e te parleremo dei cavalli per gli altri abitanti di Alpolos All'Aquila 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 Sleptima Arrenditi Sosso Aiuto, c'è qualcuno? Sopra dell'Aquila Sopra dell'Aquila E te i bandini non sarebbero dei bei piatti Ti sarò grato di te Sì, Sì, Sì. Andiamo! Sì, Sì, Sì. Ecco i tuoi attrezzi. Ah, che giornata. Sarai felice. Hai ridato uno scopo a questo vecchio. Ora, se mi tieni questi un momento, posso iniziare. Calipide! Calipide! Oh, per gli dèi. Io ne ho viste di cose nella mia vita, ma questa è raccapricciante. Ma tutto questo non va bene. Hai sentito che qualcuno ha affondato le navi con le scorte e i rinforzi? Moriremo di fame prima che arrivino i pirati. Oh! Sì. Sì. Speriamo che vada meglio dell'ultima volta. Sì. Sì. Questa sera prenderò la supporta. Sì. Sì Andiamo, dai. Partiamo. 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 Sei tu quello che gli abitanti venerano? Non so se mi venerano, ma mi chiamano Ayace. Allora devo riportarti ad Alponosso. Stanno arrivando i pirati e serve che qualcuno ispiri gli abitanti a combattere. Non hai sentito? Le nostre navi sono state affondate da un mistio simpazzito. Ora i banditi rapinano chiunque intri o esca dal villaggio ed è impossibile fermarli. Sono l'ombra dell'aquila. I banditi furbi sanno che è meglio starmi alla larga. Andiamo. Non sei per niente come l'altra ombra dell'aquila. Siete una squadra o qualcosa del genere?